Per chi mi segue da un po' più di tempo non è una novità, saprà bene che sono un accanito sostenitore della teoria secondo la quale Pokémon Sole e Pokémon Luna sarebbero una fra virgolette nuova Ioto, ossia una regione strettamente collegata a Kalos. Oggi ho fatto un video a riguardo e se non l'avete ancora visto vi consiglio caldamente di cliccare sull'annotazione dello schermo qualora fosse da PC oppure sul link in descrizione per accedervi direttamente in modo che possiate comprendere perlomeno le basi di questa teoria. Tornando a noi, ultimamente sempre più elementi hanno accreditato appunto tale teoria a partire dalla mappa della regione di Alola. Più che considerare la somiglianza a mio parere alquanto fantasiosa che accomunerebbe alcune nuvole alle sagome di Oho e Lugia, la mia attenzione si presta piuttosto alle torri di stampo orientale presenti tra le varie isole, chiaramente ispirate alle torri di Amarantopoli, il che collega perlomeno da un punto di vista visivo le due regioni. Ma la vera botta, lo scoop se così si può dire, ci è fornito da un po' come in particolare ossia il buon Maghiarna, del quale sono state rivelate informazioni importantissime all'interno della rivista Korokoro del mese di giugno. Ciò su cui vorrei porre l'attenzione è l'abilità esclusiva di Maghiarna, ossia Soul Heart, letteralmente Cuore e Anima. Per caso vi è venuto in mente qualcosa? Qualcosa che potrebbe avere a che fare con Pokémon Earth Gold e Soul Silver? Alla luce di tutte le analogie presentate nel video trattante lo stesso argomento fatto precedentemente, questa a mio parere non può essere una coincidenza. Dopo questi annunci, la mia convinzione riguardo alla teoria già citata in precedenza si fa sempre più forte e ormai sarei pronto a scommetterci sopra. Voi cosa ne pensate? Mi raccomando scrivetelo qua sotto in un commento, prima di farlo però vi ricordo che essendo un'opinione ed un pensiero totalmente personale, personale rimane e non avrebbe senso offendere me o altri che la pensano in modo diverso da voi. Detto ciò non vedo l'ora di confrontarmi con voi, che aspettate? Inoltre se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, passate anche dai social che troverete in descrizione e detto ciò noi ci becchiamo in un prossimo video! A presto! Grazie! 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 Grazie!